La scelta degli assessori è stata fatta in base all'articolo 46 del testo unico degli enti locali. E' questa la risposta secca del riconfermato sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, che non sembra dar peso alle contestazioni mossegli dal Movimento Civico Cambio sulla presunta illegittimità della giunta comunale varata. I consiglieri del gruppo di opposizione, Francesco Ceccarino, Maria Rosalia Lo Schiavo, Gerardo Fedullo e Marco Sanziviero, con un comunicato diffuso alla stampa, hanno dichiarato che al municipio non sarebbero state rispettate le quote rosa. Soltanto una donna, infatti, fa parte della squadra del sindaco e si tratta di Angela Maria Ciccarini, delegata al turismo, trasporti e attività produttive. Il possibile mancato rispetto della legge del Rio, la quale sancisce che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, è stato fatto notare al primo cittadino, secondo cui, invece, tutto dipende da come si interpreta la legge. La minoranza, però, sostiene che l'articolo 46 del testo unico degli enti locali è stato superato dalla legge del Rio, appunto, e per questo, e data l'irremovibilità del sindaco, è intenzionata di incontrare nei prossimi giorni il prefetto, al quale verrà chiesto di richiamare il primo cittadino di Centola al rispetto della normativa sulla parità di genere, sostituendo uno degli assessori uomini con un'altra donna. Se ciò non dovesse avvenire, avvertono dalla minoranza, sarà inoltrato ricorso al TAR per l'annullamento della delibera di nomina della giunta comunale e i relativi atti da essa prodotti. Nulla, però, al momento smuove Carmelo Stanziola, che si dice convinto delle scelte operate avvenute nel rispetto della legge.